Oggi per la rubrica venerdì del sindaco siamo a Brusasco, un comune di 1500 abitanti situato nella zona del Chivassese. Ad accoglierci e a portarci alla scoperta di questo delizioso comune il sindaco Giulio Bosso. Ci troviamo in un posto magico, il castello del luogo di Brusasco. Qual è il valore aggiunto che un comune come Brusasco ha nel custodire un'eccellenza di questo tipo? Allora il castello del luogo è un'eccellenza storica, un'eccellenza artistica assolutamente di pregio. L'edificio nel quale ci troviamo adesso risale alla metà del 1700 ed ha sostituito una fortezza che risaliva al 1300 circa. Ma è magico tutto il contesto, ci troviamo all'interno di quello che è il ricetto del luogo, attualmente chiamato Borgo Garibaldi, nato anch'esso intorno al 1200-1300 proprio per mettere in sicurezza agli abitanti di Brusasco che allora vivevano in pianura lungo il Po, vicino alla confluenza tra il Po e la Dorabaltea. Sia le piene del Grande Fiume, sia le scorerie dei barbari del tempo, consigliavano ai nostri antenati di venire a proteggersi in collina, costruendo appunto questa fortezza che è rimasta in servizio, in funzione almeno fino alla metà del 1600. Da allora, scemate un po' tutte le problematiche relative alla sicurezza, la popolazione è pian piano riscesa in pianura, in quello che adesso è il concentrico vero e proprio di Brusasco. Qui al luogo è rimasto il fascino di un posto senza tempo che grazie proprio alla sua caratteristica può diventare una meta turistica di un certo livello, di quel turismo lento e pacato di cui hanno bisogno i nostri territori. La riprova è il fatto che si stanno sempre più accentuando le richieste di apertura di attività ricettive tipo agriturismi, bed and breakfast, che sono spesso pieni e ospitano turisti che arrivano da tutta Europa. Un turismo quindi fondamentale da valorizzare in una zona di confine tra il Torinese e il Monferrato e ci sentiamo però anche un po' monferrini, quindi la giusta unione tra la città metropolitana e il Monferrato può dare quell'input e quel rilancio che serve ai nostri territori. Non ci servono le grandi masse di turisti, ci servono turisti che apprezzino le nostre bellezze, i nostri paesaggi e le nostre ricchezze. Ma se vogliamo trovare anche un difetto a Brusasco, cosa ci racconta? Di pregi, come dicevo, ne abbiamo già parlato. Siamo in un contesto storico stupendo, abbiamo la possibilità di contare su edifici che risalgono dal periodo romanico fino al periodo barocco, abbiamo attrattive naturalistiche, paesaggistiche. Se devo parlare di un difetto, il difetto è forse legato alla carenza di trasporti pubblici. Ci troviamo, come dicevo prima, in una zona un po' marginale della città metropolitana di Torino e appunto la difficoltà delle famiglie che si insiedono nei nostri comuni di raggiungere Occivasso o Torino con i mezzi pubblici. Abbiamo una ferrovia dismessa da anni, sarebbe veramente positivo poter pensare congiuntamente alle amministrazioni, sia quelle locali ma soprattutto quelle che hanno la competenza su questa tipologia di servizi, ragionare su un vero servizio integrato, rotaia e gomma, in modo da garantire quasi una metropolitana leggera su Chivasso o sulla prima cintura di Torino. In questo caso veramente nei nostri paesi si potrebbe vivere pienamente la realtà e riuscire a garantire tutti i servizi che sono necessari. Sindaco Bosso, quanta passione ci vuole per amministrare un comune al giorno d'oggi con un governo centrale sempre più restrittivo e i cittadini comunque che richiedono servizi? Sicuramente la passione è l'aspetto che guida di più l'attività amministrativa di un sindaco di un piccolo comune. Amministrare un comune di 1500 abitanti diventa sempre più difficile perché si hanno in me carenze di personale, difficoltà nella spesa corrente del bilancio. A tutto ciò sopperisce in gran parte proprio il legame con il territorio, la conoscenza profonda della storia, del territorio e delle sue problematiche e anche in qualche modo la vicinanza e il sostegno dei propri cittadini. Brusasco, come avete avuto modo di vedere, è un paese che ha profonde radici storiche. Quello che è fondamentale è partire da queste radici nel territorio, riuscire a far crescere un albero che sia piacevole per le persone che ci abitano e piacevole per le persone che lo vengono a visitare.